buongiorno ragazzi bentornati nuovamente sul nostro canale youtube bentornati nuovamente come vi dicevo stamattina alba abbiamo le temperature sono belle alte io ho 20 gradi per essere inverno diciamo non siamo male 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 questa mattina siamo su una scalduta di scirocco da noi lo scirocco è un vento che viene da sud principalmente innalza innalza il mare adesso siamo stamattina siamo è cambiato il vento stanotte abbiamo entrato il maestrale che è un vento che tira da nord alla parte opposta principalmente nord nord ovest e così via comunque e dovrebbe portarci la famosa onda lunga e così via a me interessa ben poco perché comunque stamattina andremo su uno spot che già avete visto altre volte voglio andare alla fiera alle porte del del porto di messina spot che a me piace tantissimo è un po scomodo però a me lo so le prime battute le ho fatte lì e quindi magari ce l'ho nel cuore in ogni caso ragazzi quindi troveremo sicuramente una già siamo su una scogliera artificiale ci sarà un po di onda speriamo faremo sempre il nostro classico spinning al barracuda speriando di beccare il barrasauro speriamo in una bella palamita perché no o comunque anche una ricciola tutta roba grosse speriamo speriamo siamo lì stiamo scendo appunto per questo e niente ragazzi sono stamattina non so se ci sarà qualcuno dei ragazzi ho sentito dei messaggi so che dovevano scendere ma forse questa mattina siamo siamo divisi e niente va bene ragazzi come sempre spero vedetevi il video spero che ci sia che se vedete il video ci sarà qualche cattura sicuramente e quindi niente seguiteci sempre su su instagram su facebook su clic e toc a volte siamo un po maldestri si cerca sempre di divertirsi al mare ci sta e basta ragazzi buon video e buona visione ci si becca sullo spot i see her rolling up uber black cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad oh baby's hella bad after her there ain't no coming back wanna take a run at that i think she's feeling me turn it up a few degrees my imagination of her body gets the best of me oh gosh she's such a tease bitten lips bruised knees i'm addicted to her need her touching me cos she's got a bad little waste and we tearin down this place off the liquor that we chase casamitos to the face baby i don't need no space coming closer for a taste then i'll show you how i make everything just fade away cos she's like sex drugs cocaine body so insane jealous of her clothing as she wears up on that tight frame all game no shame baby can't get a play i feel like an addict cos she's sex drugs cocaine she's got a bad little body and her mind's kinda naughty they say they want to play man mache 주고 man i i ona man I the Lopo! 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 Emma! Hai visto? Che serve? Hai visto? Io l'ho presa al volo! Non hai capito? Io l'ho presa al volo! Questa mare finiva! Guardate la bellezza del nostro streppo! Grande Mario! Il tutto quello che fa è andata! Avviti dal movimento Carrientale 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.